Allora, oggi voglio parlarvi della retratezza che abbiamo come italiane, aziende italiane sul web. Non sto parlando del funnel, dei quattro video, sto parlando di vendita nel web. Allora, Alibaba è aperto da fine 2015 in Italia, con un team di 10 persone. Volete sapere le aziende fino ad oggi che si sono rivolte all'Alibaba? Alibaba 80, su 4 milioni e mezzo, 80. Alibaba ha due marketplace, Tmall e Tmall Global praticamente, che è adatto e adeguato per tutte le aziende italiane. Ci sono mille web agency che loro ti consigliano per proporti nel web in una certa maniera. Ora, il mio gruppo vende per il 98% in Italia, ma se fossi un produttore di qualcosa, non ci penserei un momento. Loro ad agosto lavorano, ad esempio ieri hanno fatto le offerte dell'8-8, stanno preparando le offerte del 9-9. Loro ogni mese che c'è questo giorno praticamente fanno delle offerte incredibili e noi andiamo in vacanza, andiamo in ferie. Andate a Milano, ad Alibaba, andate a vendere. Volete un esempio? Savinelli Pipe. Savinelli Pipe vende in tutto il mondo le sue prestigiose pipe che non venderebbe se non avesse Alibaba. Alibaba è forse uno dei più grandi driver per sviluppo della tua impresa. E poi mi dite che l'Italia o io sono distorto digitalmente. Siete voi che siete distorti digitalmente, perché siete ancora lì a pensare che serva andare a vendere un listino, una mail, un fax o altre cose. Serve il driver digitale. Alibaba è in Italia da fine del 2015 e ha prodotto dei risultati incredibili. Cosa aspetti ad affacciarti su questi marketplace? Cosa aspetti a approfittare di queste cose? Call to action. Verifica la possibilità di distribuire i tuoi prodotti con Alibaba. Grazie a tutti.